Buonasera ai Black Boys, buonasera alla squadra tutta, naturalmente vestita di nero, buonasera naturalmente al capitano Arcella. Capitano, cosa avete fatto settimana scorsa? Abbiamo vinto, abbiamo iniziato bene, abbiamo vinto con i vincitori del torneo scorso. Ah, quindi ottimo esordio. Sì, un ottimo esordio. Siete in cinque contati? No, no, non stanno arrivando gli altri due. Deve arrivare ancora a Milano e a Escolese. Ah, non da Milano, quindi? No, no, no. No, avevo capito, veniva da Milano. No, no. Gli ucambe rimane. Capitano, da quanto tempo avete questa squadra, avete fondato questa squadra? Eh, questo già è il quarto torneo che facciamo, ogni anno miglioriamo sempre di più. Quest'anno abbiamo fatto l'acquisto di Sperandeo, il nostro topo player. Ma è lui il miglior giocatore? Sì, adesso sì, il nostro topo player. Sperandeo, è lui un buon capitano? Eh, diciamo, stiamo accogliendo le firme per chiudere di lavoro. Ammutinamento in casa, Black Boys, e qui si chiude la telecamera. Siamo su Nicolella Capitano, Nicolella. Perfetto. Buonasera. Seconda partita di stasera, avete sfidarsi, Black Boys, vestiti di nero, e il Real Porto di Capitan? Manzo. Capitan Manzo, senza voce, perché hai cantato. Sì, sì. E' fatto. No, io che giochiamo sempre, stiamo un po' raffreddati. Un po' raffreddati. Capitano, che avete fatto settimana scorsa? La settimana scorsa abbiamo vareggiato 4 a 4. Contro? Non ricordo, un po' raffreddati. Un po' raffreddati. Un po' raffreddati, una bella squadra. Senti, Capitano, da quanto tempo avete questa squadra tutti insieme? Siamo un po' misti, ma siamo da molti anni insieme. E chi è il miglior giocatore adesso? Ma siete in cinque contati? Ce ne sono parecchi, di non innesti, però do merito al nostro portiere. Ci dobbiamo. Portiere, come si chiama? Gabriele De Martino. Gabriele, lui è un buon capitano, il signor Manzo Tenza Poce? Un capitano che abbiamo mai avuto. Su queste parole, no? Più corretto. Tutto quel che c'è da dire dopo è superfluo, per cui io vi auguro. Tutto perpletto. Tutto perpletto. Ma una punizione, ma niente. Portiere, dopo ti faccio l'intervista, vedete se a primo tempo continui a dire questa cosa. Mi ringrazio, non ti voglio, non ti voglio, non ti voglio, non ti voglio. Buon carlo, ragazzi. Buon carlo, ragazzi. Buon carlo.